Santità o demenza? Santità o demenza? Santità o demenza? Santità o demenza? Serra Mazzotti è stato uno storico capitano della Nazionale Cantanti, posso dire altrettanto di esserlo stato per la Nazionale Chierichetti? Anche se questa squadra non è mai esistita. Santità o demenza, in origine, si rifaceva al famoso episodio biblico del cammello attraverso la truna del lago. La mia infanzia è stata infatti impregnata, marinata, annegata in dottrina cattolica, di teologia applicata, vangeli, funzioni religiose. Le so tutte. Per cui, come un riflesso involontario, ho sempre pronti richiami ad eventi biblici, che pur non essendo più parte delle mie credenze, restano sempre molto evocativi dal forte impatto aulico e visivo. Ecco quindi che la cruna del lago è diventata Santità o demenza?